Ambasciatrice della cultura dell'espresso nel mondo, la nuova Simonelli di Belforte del Chienti, continua a macinare caffè e risultati positivi, come dimostra il bilancio consolidato 2014, superati 51 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 22% rispetto all'anno precedente. Nel 2009 e oggi, qual è stato il successo? Sicuramente è stato quello del lavoro fatto negli anni precedenti, quello di cercare di girare per il mondo, di far conoscere il brand Simonelli, quello di creare sempre nuova tecnologia e soprattutto nuovi servizi. Noi siamo convinti che per poter guadagnare il mercato globale non basta vendere la macchina ma dare i servizi. Su questo ci siamo impegnati con una sfida già da 95 e sicuramente questo ci ha portato a far girare il mondo, ma a far conoscere il brand tra i migliori brand del settore delle macchine caffè. Nel premio che abbiamo preso nel 2015, che il Cervede ci ha dato una settimana fa, uno dei motivi è proprio quello dell'aumento della conoscenza del brand in giro per il mondo. Il fatturato è aumentato di pari passo con l'export, che rappresenta il 93% con una grande risposta da vari mercati, in primis quelli asiatici. Ogni minuto vengono prodotte quattro macchine espresso del gruppo Simonelli, che arrivano in 120 paesi del mondo. I dati di bilancio comprendono anche la controllata nuova distribution USA, costituita negli anni 90 dalla famiglia italo-canadese Bresciani, opera prevalentemente nel Nord America. In America è andato molto bene il 2014, specialmente perché abbiamo concluso con tanti clienti molto grandi, multinazionali, che sono imbassati in America. Per il futuro? Per il futuro la Simonelli continua a investire sui nuovi prodotti, che la concorrenza non fa a livello che fa la nuova Simonelli, sempre arrivano prodotti nuovi con innovazioni e tecnologie nuove. Entro il 2015 a Singapore sarà inaugurata una nuova sede del gruppo Simonelli, con uffici, showroom e un'accademia del caffè, per continuare a diffondere la cultura dell'espresso nel mondo.